La mia battaglia per l'ambiente continua. Ho appena presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere alla Commissione europea di occuparsi della centrale elettrica di Porto Tolle a Rovigo. Sì, perché dopo la bocciatura da parte del Consiglio di Stato italiano sulla scandalosa proposta di riconvertire a carbone la centrale di Porto Tolle, come proposto dall'Aggiunta Zaia, il Ministero dell'Ambiente italiano non ha avviato una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla legge, sia italiana che europea. Il Ministero, infatti, d'accordo con la Regione Veneto, ha deciso di operare in deroga alle normative vigenti grazie a un codicillo inserito in un decreto legge del 2011 che permette di agire in deroga appunto nella riconversione a carbone delle centrali a olio combustibile, come nel caso di Porto Tolle. Insomma, in parole povere, si agisce in deroga per aggirare la norma ambientale vista la delicatezza della questione, indicano queste norme un percorso legislativo più attento e più cauto. Fortunatamente, come sempre, c'è l'Unione Europea, le cui leggi non si possono scavalcare in deroga ma vanno rispettate nell'interesse dell'ambiente di tutti i cittadini europei, compresi i cittadini del Veneto. E poi, oltre a questo modo di operare al limite della legalità, la Regione Veneto, con la sponda dei amici del Governo, continua a cercare in tutti i modi di riportare il carbone, una delle fonti di energia più sporche e vecchie al mondo, proprio a Porto Tolle. Insomma, mentre tutto il mondo punta sulle rinnovabili, e qui in Europa siamo impegnati a far approvare un nuovo e più rigoroso piano di riduzione delle emissioni di anidride decarbonica entro il 2050, la Giunta Zaia non trova di meglio che riproporci il vecchio carbone dell'Ottocento. Sì, perché le disposizioni del Ministero dell'Ambiente non prendono nemmeno in considerazione le alternative più pulite come l'alimentazione a gas metano. Ecco, io sono venuto in Europa anche per questo, per far sì che l'Italia, e in questo caso la Regione Veneto, la smettano di violare quotidianamente le normative europee e di mettere continuamente a repentaglio la salute dei suoi cittadini.